Matteo, 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 Matteo! Facciamo tanto, facciamo le mani, ci salutiamo tutti i piedi ai presidenti. Muoviamo la testa, facciamo festa, a te la mente diventiamo benvenuta dai i bambini, gli insegnanti, i fidelli, e poi a te la seremo in profita così. Siamo felici e dividiamo da oggi e poi, ovunque vai, sono scordati di noi, dei nostri sogni e le speranze, che già dividiamo con fiducia, oggi a ritmo di più, nella gaste di più. Grazie per la visione. Grazie per la visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.